recupera la tua vita come avere equilibrio emozionale tu mi hai rovinato la vita tu mi hai rovinato l'esistenza tu non mi aiuti tutto questo è dare la colpa agli altri quando diamo la colpa agli altri stiamo dicendo che il problema è fuori e se il problema è fuori anche la soluzione è fuori e se la soluzione è fuori rimaniamo schiavi delle persone di che cosa hai bisogno hai bisogno di recuperare il controllo della tua vita il pieno controllo del tuo mondo emozionale un uomo disse io non scelgo tutto ciò che mi succede però posso scegliere come reagire di fronte a ciò che mi succede posso essere il protagonista della mia storia posso essere l'architetto del mio destino posso dire va bene non ho scelto questa battaglia però posso scegliere come reagire io decido per me smetti di dare sempre la colpa agli altri prenditi le tue responsabilità recuperare il controllo della tua vita nel tuo mondo emozionale ti renderà una persona libera a a a Grazie a tutti.